Con il varo del Super Green Pass siamo all'avanguardia nel mondo, possiamo dire, non solo in Europa. Sicuramente siamo i più rigorosi, sicuramente c'è un forte impatto su tutto il mondo del lavoro e non solo. Draghi ha fatto bene a imporsi su questo Super Green Pass. Lei che valutazione dà e che difficoltà vede? Sicuramente l'Italia è uno dei paesi che ha affrontato meglio l'emergenza Covid e i risultati, se uno guarda le statistiche della Johns Hopkins, vede che effettivamente noi siamo primi, secondi, terzi, sul fronte della vaccinazione, abbiamo una delle percentuali più elevate a livello internazionale di vaccinati. Questo ci consente di affrontare il periodo invernale che, come tutti ricorderanno l'anno scorso, è stato particolarmente impattante in termini di diffusione della pandemia in modo più sereno. Ma soprattutto consente di affrontare un tema che forse era stato sottovalutato dall'entusiasmo del lavoro a distanza. Oggi credo che ci sia una grande domanda per tornare a lavorare in presenza. Credo che per quanto efficace sia stato il lavoro a distanza, a molti manca l'efficacia del contatto personale, il rapporto personale. Quindi questo consentirà di evitare lo smart working, no? Esatto. Il lavoro è un esercizio comunitario, cioè deve essere fatto assieme ad altri. Quindi c'è l'esigenza di far tornare al lavoro in presenza tante persone. Quindi io credo che la decisione del governo sia stata una decisione coraggiosa e certamente corretta. Sei d'accordo Massimo?